Vi siete mai chiesti come sia viaggiare su un treno costruito più di un secolo fa? Questo sono io sul treno di Dante, un'esperienza di viaggio unica a bordo di un treno storico, super consigliata come attività autunnale. Quindi, salva il video per non perderlo, il treno attraversa il cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle terre che Dante Lighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravio. Oltre alla prima e alla seconda classe, con le sedute in tessuto, hai la possibilità di scegliere i posti in terza classe, con le panche in legno e gli eredi di un tempo. E non pensare mica di annoiarti. A bordo potrai incontrare Dante, che ti fornirà indicazioni di carattere culturale, artistico e storico su ciò che stai mirando dai Finistein. Se cerchi un'attività da fare in giornata, questa non puoi assolutamente perdertela. Quindi, tagga nei commenti che porteresti e seguici per altre avventure.